Buonasera a tutti, volevo dire una cosa al pubblico di YouTube e volevo intanto appunto ringraziarvi per tutto quanto, per gli iscritti, per l'attenzione che alcuni di voi, diversi di voi ci danno. Noi siamo arrivati a 1820 iscritti, però abbiamo notato che le visualizzazioni sono poche ancora. Ora, se una cosa volevo chiedervi, se era possibile, se potevate, di visualizzare un po' di più, di commentare, davvero commentare anche una cosa, anche se in maniera negativa, purché costruttiva naturalmente, è importante per me e soprattutto per i figli, per poter crescere, perché pensiamo di comunque di postare, di pubblicare su YouTube cose carine, simpatiche e niente, questo qua volevo chiedervi, di commentare, di visualizzare magari un po' di più, se naturalmente se il canale vi piace e niente, non abbiamo ancora capito questo fatto qua e appunto come mai diversi iscritti così, però poche visualizzazioni o comunque la mia non è tanto la voglia di voler arrivare al guadagno, ci mancherebbe, quello poi se viene, se meritiamo, verrà pure quello col tempo. La cosa che non capisco io è perché non, diciamo, la differenza tra diversi iscritti e le visualizzazioni. Mi raccomando per favore sempre commentate, commentate anche se in maniera negativa, purché appunto commentate, ci fate sentire vivi al nostro canale, possiamo fare cose contenti di poterle fare per voi, per il pubblico, per i vostri figli, per i vostri genitori, per i vostri nonni, appunto musica, disegni e giochi per ragazzi di PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo e via dicendo. Detto questo un abbraccio grande a tutti e di nuovo grazie infinite per tutto e niente, mi raccomando per favore visualizzate, visualizzate i contenuti dei video, ci ha aiutato un po' a crescere e stimolarci a noi a continuare, questo qua volevo chiedere, che magari io pensavo che la naturalezza, la tranquillità, l'educazione alla fine paga sempre, con questo non è che voglio dire che gli altri non sono, anzi, no no, sono tutti molto professionali, tutti molto anzi, e questo qua, un abbraccio grande a tutti, da mio Eugenio Emanuele, ciao YouTube, ciao grazie, mi raccomando visualizzate e commentate, ciao ciao, per favore.